Una chiamata anonima ricevuta dai telefoni dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, in cui veniva fatto riferimento senza indicazioni specifiche a problemi a bordo. È bastato questo per far scattare le massime misure di sicurezza. E così il volo VY206 della V-Hailing, che sarebbe dovuto partire alle 14.05 diretto all'aeroporto di Londra Gatwick, è stato bloccato quando l'imbarco dei passeggeri era già stato completato. Sulla pista sono arrivati gli artificieri che sono saliti sul volo per le operazioni di bonifica. Controlli accurati sono stati effettuati dagli agenti della polizia aeroportuale sulle stive, sui bagagli e sui passeggeri. Operazione ripetuta anche su un altro volo, quello della British Airways, sempre diretto a Londra, con partenza fissata alle 15.00. In entrambi i casi i controlli hanno dato esito negativo. Così i passeggeri, anche se in ritardo, hanno potuto raggiungere la destinazione. Adesso le forze dell'ordine dovranno cercare di identificare l'autore della chiamata anonima. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di una bravata, ma non viene esclusa nessuna ipotesi.